Eh sì, i cani sono famosi come i migliori amici dell'uomo, ma alcune amicizie sono più complicate di altre. Devi stare attento con un cagnolino che in realtà può cacciare un leopardo e prendere il controllo, lo sai. Se ti senti abbastanza coraggioso, preparati a scoprire le nove razze di cani indiani più pericolose. Partiamo dal numero 9. Mastino indiano o Bulli Kutta. Bulli Kutta significa letteralmente cane molto rugoso in Indi Urdu. Sì, capito il tipo. Altri modi per chiamarlo sono Mastino Kumaon, Mastino Sind e Bulli Pakistano. Dato che è il tipo di mastino più grande e più forte in India del Nord, a volte viene anche chiamato Mastino Massiccio. I Bulli Kuttas adulti raggiungono i 70 kg di peso e 71-83 cm di altezza. Questa razza è stata creata in India nel XVI secolo e si tratta di cani da lavoro che fanno sia i cacciatori sia le guardie. I Mastini indiani sono energici, intelligenti e protettivi, quindi diventano davvero perfetti compagni di caccia e possono proteggere i loro padroni dagli animali selvatici. Tuttavia non possono vivere con altri animali domestici a causa del carattere aggressivo che dimostrano nei loro confronti, quindi non sorprende che si siano organizzati combattimenti di cani legali sia in India che Pakistan. I veterinari non consigliano di prendere un Bulli Kutta se non si ha mai avuto un cane, perché questa razza ha bisogno di un addestramento adeguato per diventare un amico fedele. Tuttavia sono molti quelli che li hanno come animali domestici, specialmente nella regione del Punjab. 8. Levriero Mudol o Caravan Hound I levrieri Mudol, conosciuti anche come Mudol, Maratha e Pashmi, sono animali domestici popolari nei villaggi dello stato indiano Karnataka. Proprio come i Mastini indiani, fanno bene i cacciatori e la guardia, per la loro grande velocità e resistenza. Inoltre possono cacciare in qualsiasi condizione. L'esercito indiano ha deciso di avvalersi di queste fantastiche qualità e attualmente sta testando i levrieri Mudol come protettori di confine. Per rimanere eleganti e graziosi come sono, questi cani hanno bisogno di molto esercizio fisico, quindi tenere un levriero Mudol in casa sarebbe davvero crudele. Se allevi come si deve un levriero Mudol, dandogli la gentilezza e il rispetto che merita, diventerà un amico leale, che non esita a proteggere il suo padrone. Ma non sarà mai amichevole con gli estranei, quindi non cercare di accarezzarne uno se lo incontri. E se il padrone si comporta in modo crudele con un cucciolo di Mudol, beh, che poi non si aspetti di essere trattato da lui con amore e rispetto. 7. Mastino Himalaiano Come si può intuire dal suo nome, il Mastino Himalaiano proviene dalla regione himalaiana, è anche conosciuto come Mastino Tibetano e Drog Kihi in tibetano, il che significa cane che può essere legato. In effetti, secoli fa, questo cane veniva legato di solito fuori dalle case o da tende, monasteri e palazzi da proteggere. Questi cani, infatti, avrebbero abbaiato nell'oscurità, dando un segnale di pericolo ai padroni, perché più attivi di notte, dato che il giorno dormono. Anche questi enormi cani, che pesano fino a 100 kg, sono dei fantastici guardiani di famiglia, con un grande istinto protettivo. Quindi, come hanno fatto questi cani orso a finire nella top list dei cani pericolosi? Ti chiederai. Beh, il Mastino Himalaiano ha sicuramente anche un'altra caratteristica, ed è il fatto che è gentile e leale, solo se addestrato correttamente, ovvero se gli si mostra chi è il capo branco in famiglia. Ci vuole molta pazienza ed esperienza per renderlo un guardiano amichevole, e anche allora rimarrà comunque ostile agli altri cani. E se qualcosa va storto, potrebbe anche dimenticare tutta la gentilezza che gli ha insegnato, e abbattere due lupi da solo. Un altro fatto interessante sui Mastini Himalaiani è che odiano il clima caldo, quindi la montagna è il posto perfetto per loro. 6. Rajapalayam. Se sei un amante dei cani, sai sicuramente quanto sono grandi e muscolosi, gli alani. Bene, i Rajapalayam, conosciuti anche come Segugi di Poligar, hanno all'incirca le stesse dimensioni, diciamo, sui 63-76 centimetri di altezza. Questi tipetti muscolosi erano dei grandissimi compagni di caccia al cinghiale per la famiglia reale e gli aristocratici. A Rajapalayam, città dell'India meridionale, da cui hanno preso il nome. La loro superpotenza è la loro vista incredibilmente a guzza. Se addestrati correttamente, questi splendidi animali diventano cani delicati, dediti a un solo padrone. Sono piuttosto riservati con i sentimenti e non saltano attorno al padrone come dei cuccioli aziosi. Tuttavia, rimangono fedeli fino alla fine. Certo però, il loro istinto di caccia è così forte che possono diventare veramente aggressivi con gli estrani e con gli altri animali domestici, quindi è meglio dare loro lo spazio di cui necessitano. 5. Canni In Tamil, canni significa puro. E quanto a questi cani dell'India del Sud, beh, hanno la purezza nei loro cuori fedeli. Spesso vengono anche chiamati Maidens Beastmaster, perché questi cuccioli venivano dati in dono alle donne appena sposate, che dovevano proteggersi dagli animali selvatici. E questa bellezza leggiadra. Poteva senza dubbio proteggere le fanciulle, perché può cacciare cervi, lepri e altri roditori, e può correre molto velocemente dietro alla preda. Inoltre è facile abituare questo cane ad ascoltare i segnali del padrone. Il canni è leggero e muscoloso allo stesso tempo, ha un cuore grande e una colonna vertebrale flessibile, molto simile a un ghepardo. Potrebbe sembrare una versione timida e gentile del Doberman, ma farebbe davvero di tutto per difendere il suo padrone in pericolo, quindi meglio non scherzare col fuoco. 4. Rampur Greyhound Il Rampur Greyhound viene dalla città indiana settentrionale di Rampur. Questa era la razza preferita del Marajah per cacciare leoni, tigri, leopardi e pantere, e per essere protetti dagli sciacalli. Ci vogliono coraggio, abilità e velocità per abbattere un sciacallo, e i Rampur possiedono senza dubbio tutte queste qualità. Hanno una resistenza incredibile e possono correre a una velocità di 67 chilometri orari. Inoltre hanno un equilibrio incredibile, proprio come i gatti, e possono camminare con grazia sulle recinzioni. Questi cani hanno bisogno di molto spazio per scranchirsi le zampe, quindi tenerli dentro casa non è una buona idea. I Rampur sono intelligenti e fedeli ai loro padroni, ma non amano condividerli con nessun altro. Diventano piuttosto aggressivi e il loro istinto protettivo si scatena quando estranei o altri animali domestici si avvicinano al loro amato padrone. E anche qui, ripeto, meglio non scherzare col fuoco. 3. Cane dei Bacarval La razza dei Bacarval proviene dalla regione himalayana. La parola Bacarval deriva da Bacri, che significa capra, perché il loro compito originario era quello di proteggere il bestiame dei nomadi, tra cui le capre, da lupi e orsi. Un fatto interessante sui Bacarval, noto anche come cane da guardia gushar e mastino del Kashmir, che è vegetariano. Questo cucciolo dalle lunghe zampe con le spalle larghe preferisce latte e pane a qualsiasi altro alimento. Tuttavia ha un bel caratterino, è super protettivo contro i nemici e si presta bene ad un buon addestramento. Non ci deve sorprendere quindi che il servizio di polizia indiano lo usi per catturare i militanti. 2. Kombai La prima volta che il Kombai è stato menzionato risale al XV secolo. A quel tempo sono stati menzionati nei registri della regione dell'India meridionale del Tamil Nadu come grandi aiutanti nella caccia al cinghiale. Al bisonte, e al cervo. Hanno delle mascelle potenti e un petto ampio, per proteggersi da eventuali nemici. Se vedi un Kombai, forse potresti pensare che sia pigro e non in guardia, ma questa è solo un'illusione. Gli ci vuole un attimo per trasformarsi in una guardia feroce. Eppure essendo dei grandi cani di famiglia, che amano i bambini, sono davvero aggressivi con gli altri cani che non conoscono e sono sempre pronti a proteggere i loro padroni dagli sconosciuti. 1. Kwon alpino. Hai mai letto le storie di Mowgli di Rudyard Kipling? C'è un'intera storia su di loro chiamata i cani rossi e se la leggi probabilmente immaginerai questi cani come creature sanguinarie e aggressive che vivono in enormi branchi. Ti dirò, non è lontano dalla verità. Anche se sono abbastanza piccoli e pesano 12-18 kg, i Kwon possono uccidere animali 10 volte più grandi di loro. Questi cani selvatici africani possono correre a una velocità di 54 km orari e vivono in branchi di circa 12 cani. Raramente uccidono il bestiame e per lo più cacciano nelle zone selvagge degli altopiani dell'India centrale, ma in realtà puoi trovarne in tutto il paese. E tu, ami i cani o ti fanno paura? Sentiti libero di dircelo nei commenti di sotto. Non dimenticare di mettere like al video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare click su iscriviti per restare sul lato positivo.